La rivoluzione triunferà quando la lingua avrà raggiunto la perfezione. La neolingua è il soching e il soching è la neolingua. Nella distopia orwelliana, per controllare elementi, il partito controlla ogni aspetto della cultura e soprattutto la storia del passato, con una frenetica costante operazione di rimozione delle testimonianze e delle fonti, persino gli articoli di giornale giudicati scomodi. Il partito ha costruito una neolingua in costante evoluzione, dove i termini a disposizione sono così rarefatti e insignificanti da non permettere più a chi la usi di esprimere con parole i concetti proibiti. Il reato più grave in Oceania è infatti lo psicoreato. Non capisci che lo scopo principale a cui tende la neolingua è quella di restringere al massimo la sfera d'azione del pensiero? Alla fine renderemo lo psicoreato letteralmente impossibile, perché non ci saranno parole con cui poterlo esprimere. L'intento del partito è di svuotare i termini arrivando al punto in cui ogni concetto sarà espresso da un'unica parola, il cui significato sarà stato rigidamente definito, mentre tutti i possibili significati alternativi verranno banditi, cancellati. Il processo che porta alla progressiva diminuzione del numero delle parole comporta inoltre una contrazione ulteriore della coscienza. A rendere fattibile questo sistema contribuisce nel romanzo non solo la psicopolizia, che monitora gli atti, ma anche le pulsioni involontarie delle persone, ma soprattutto la pratica del già citato bipensiero. Una sorta di autodissociazione mentale, attraverso la quale gli stessi membri del partito si impongono di ritenere vera una cosa o un'idea, anche se quest'ultima dovesse risultare in palese contrasto con la realtà. In 1984, ancora più che sulla tortura o sull'imposizione forzata dei modelli del partito, il futuro della rivoluzione è affidato al successo della neolingua, la quale trasformerà le menti rendendo letteralmente impossibile formulare concetti appartenenti al passato. Orwell scriveva nell'immediato dopoguerra e aveva come modello il totalitarismo salinista di quegli anni. Eppure, almeno su questo particolare aspetto, la realtà contemporanea sembra aver superato di gran lunga la fantasia letteraria. Il ricorso a sempre nuovi neologismi creati ad arte permette di pensare non più con le parole, ma far sì che siano le parole stesse pensare per noi. Ciò avviene perché esse sono state svuotate di significato, sclerotizzate, così come la mente delle persone è diventata schizofrenica, furia di essere manipolata e di vivere in un eterno presente in cui la storia viene costantemente falsificata e riscritta. Il linguaggio viene ridotto all'osso, le parole diventano gusci vuoti, ideali per veicolare i concetti del bipensiero, che si possono cambiare in continuazione, ribaltare, negare, sconfessare. Come si livella la coscienza? Così si sdradica l'identità della persona, riempiendola con i precetti del potere, così si svuota il linguaggio. Pensiamo per esempio come i social network hanno modificato la lingua e introdotto nuovi termini diventati di uso quotidiano. Il pensiero unico oggi non richiede più la censura violenta, sebbene la denigrazione e la violenza mediatica in qualche modo la sostituiscano, ma rende ogni individuo censore di se stesso. Da un lato la repressione e la violenza ci inibiscono dall'esprimere ciò che vorremmo per paura di una reazione. Dall'altro il politicamente corretto e la neolingua rendono sempre più difficile non solo parlare e scrivere ma addirittura pensare. La neolingua politicamente corretta è una costruzione artefatta, burocratica, è un linguaggio per i fanatici dell'ideologia che sta contagiando il mondo intero, imponendosi attraverso slogan e una forma di abitudine mediatica, di saturazione. Rientrano nel politicamente corretto diverse espressioni da neolingua che sono entrate nell'uso comune come maternità surrogata, fecondazione assistita, dolce morte al posto di eutanasia, missioni di pace, guerra umanitaria, bombe intelligenti, ma se sono del nemico saranno armi di distruzione di massa. Così durante il dibattito sull'immigrazione non si è più parlato di immigrati preferendo il termine più romantico di migranti, da cui le parole chiave che campeggiano ovunque quali accoglienza e solidarietà. La neolingua sembra anche farsi beffa delle masse introducendo termini virali quali petaloso, ciaone ed espressioni usate dai giornalisti che finiscono per fare tendenza come bombe d'acqua al posto di acquazzone o diluvio. Le disastrose riforme scolastiche saranno invece ricordate come buona scuola, pertanto non potranno essere criticate se quanto riformato è buono. I colpi di Stato, sostenuti dall'Occidente, diventano rivoluzioni colorate e primavere arabe, mentre gli stati nemici saranno gli stati canaglia. Infine, chi osi mettere in dubbio tutte le inconfutabili verità che ogni giorno la stampa impone, altri non è se non un complottista. La neolingua passa anche per l'introduzione di termini anglosassoni di stampo neoliberista, governance, Jobs Act, Spending Review, Fiscal Compact, eccetera. Quando si vuole evitare che l'opinione pubblica entri troppo nel merito di alcuni provvedimenti, di proposto, di riforme, si introducono così termini tecnici, per lo più di origine inglese, per confondere le idee e diffondere una patina di incertezza sul loro significato. Finiranno per essere usati anche a sproposito senza conoscerne realmente il senso.